Oh ecco, è iniziato, ok benissimo, Iris, è cominciato, dovremmo anche salutare, ciao ragazzi siamo oggi qui riuniti a sclerare, siamo qui riuniti nel nostro disagio perché è anche giusto dirlo, vabbè avviamo la partita, iniziamo 3 in 2, sì, correlativo a sclero, avvia, vabbè questa è la modalità normale ma che casino ecco le tre marie, no, si serve il disagio, attenzione all'inizio della storia, la storia del disagio ah, prima c'è il cicciobomba io ma sappiamo cosa prima c'è il mago, mi sa, ma dove c'è il mago? ah sì io in teoria ero Amadeus in teoria Greteus Greteus è un po' coteso io sono Irius io valentoia benissimo iniziamo bene ma sembra troppo Crash Bandicoot su quei colori che si casa ah ma quindi all'inizio siamo tutti e tre noi lo stesso per, sì con colori diversi suppongo oppure inizia da solo io ogni mattina io come dormo ecco esatto chi è lì? oh ci stiamo moltiplicando, la moltiplicazione del corpo tipo Naruto benissimo siamo come nel Kardashian no, ci riposiziamo in dei secondi Kim Kardashian è the way tra l'altro dormivamo a quella ponte vabbè dettagli ovviamente io la sfiga devo essere il colore più brutto giallo ma no è già dal colore dell'estate quindi già Greta che si è incagliata grazie incagliata che muo va bene dai che ha fatto sta casa qui? ma che ha fatto sta casa qui? io no è stata Greta è vero scusa questa è la mia bolla ho capito però tu mi fatti pure la bolla iniziamo bene oh dobbiamo prendere queste cose qua le sto prendendo infatti le palle lì c'è la boccia ecco ma non posso cambiarla? no devi farla benissimo mi fai una caccia volante? puoi farla? ma posso già farla? lo so prova si con la deve essere una luccica fai una cassa io ci salgo su e poi tu la sollevi prova così prendo quella cosa lì ah no aspetta posso fare un'altra cosa forse vai sali ci manca la cassa arriva Greta no aspetta me l'hai fatta così ma la potevi fare dritta la cazza Greta bene bene è solo l'inizio questa è una ce n'è un'altra ce l'ho fatta il tuo cazzo sta vai è in testa pure la molla vabbè non credo sia questa la via allora salite qua nella mia cassa donzelle hai rotto le casse guarda là guarda là che c'è qua? non c'è niente la sopra sì dall'altro lato ma volevo oh basta solo questo devo andare te in qualche caso voglio andare no sono andata dall'altro lato per vedere se c'era qualcosa ma è buio ma è buio è un tumbo luminoso sotto non c'è niente facciamo la nostra cassa qui per semplificarci la vita arigato aia vabbè no di qua non si può salire vabbè c'è un lobo c'è un lobo c'è una sua cassa qui ora me la venne in testa la cassa sì ho preso io sto già perdendo un polmone sappiatelo benissimo attenzione momento storico non c'è niente non c'è niente non c'è niente una notte da frayne attenzione anche no torniamo a dormire che è meglio ah io so pure fare i figli si è già figliato tu venga sono come coniglie come dice il detto chi di barbabonda di da la 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 non lo dico perché sono bambini ehm eh però non facciamo pegi 18 vuole spiegare come nascono i bambini Greta dai quella cipogna io sono il rouge io sono pink perché io sono sempre il giallo mi fa schifo il giallo a me fa cagare il pink quindi muori farbaccia ti faccio tutto ti faccio tutto io spacco bottiglia amato famiglia ah no ma io mi sto confondendo chi cazzo sono quando ci fondiamo tu e viola mi sa che dobbiamo spingere questa cosa beh rosa viola insomma più o meno spingete figlie no cosa che ho niente son caduta sono viva sono viva e dica dove a cambiare metto il mastello di torre e spacco tutto questo è lo scuro che cos'è che fa con questo niente vabbè andiamo mi trovo ho bisogno che toccava il touchpad ah ma cosa fa così ah ok anziché magari piatta frasile c'è poi 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 ma non stanno morendo le troie ci stiamo ammazzando tra di noi meno male che è un po' il nero che amico o la spada amica il nero è un po' il nero benissimo la fai caggine mamma quella che odio guarda guarda che non riesco guarda come si lanciava il fondo sorella illuminaci come si lanciava il con il con il re 2 no oh c'è un coso qua sotto ecco brava cadi qua sotto c'era qualcosa no ha preso Greta no non c'è niente qua che scossa questo è mio no voglio morire da giovane manco da vecchia però dettagli oh c'è qualcosa qua sotto ma qui sono oh sopra lì ma pure dentro mi sa si poteva andare pure da qui si vediamo se c'è qualcosa qui ma dov'è facciamo che una va sotto e una va sopra e l'altra va in mezzo che corno non c'è niente ok possiamo andare avanti non c'è niente I'm coming come sono belli i livelli mi piacciono troppo oh io voglio la bolla me la devi dare la bolla oh ecco ok sotto c'era qualcosa qui sopra c'è una cosa è caduta presa vediamo cosa c'è qui benissimo oh che bella riunione mi ricordo vagamente la voce la doppia scena di Chloe un pochino oh trofeo ah 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 all'inizio di un incubo bene avviamo ok oh come sono belli alti vuote sì c'è alti vuote no sì sì mi viene voglia di disegnare anche se vengono la tua finca scusate ma guarda come tu lo vado il pennello magico ecco le bolle della vita per capo che il terzo non c'ha molti player perché si dà anche quello no 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 sono già morta guarda 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 ma guarda come muoiva vedete ci sono perchè non posso resuscitare con gli altri dobbiamo resuscitare no ma io in teoria potrei scegliere ecco no perché ok quindi una vita per tutti i personaggi, non è come il primo che ognuno ha la sua mano ce l'abbiamo nel culo porco Giuda guarda quanto si vede sei sicura? eh sì, io non posso cambiare il personaggio con quale si cambia il personaggio? con L1 eh, non me lo fa cambiare ma perché è morta? come no? appunto, quindi una vita perché non torna qualcuno indietro che è lì vicino? e dov'è il colo? senza non ricrepare fammi tornare fammi tornare allora, qua ecco, cambia personaggio R1 e L1 però appunto se schiatti una volta schiatti con qui guarda, guarda, guarda hai visto? guarda come non puoi cambiare è vero? ma no, era così anche nel nel primo eh no, nel primo cambiare era così? mi pare no, mi ricordi no se giocavi da sola se giocavi da sola lo cambiava guarda stesso errore di prima ma io dice quella roba lì la vedo solo io lì a destra che non riesco a prendere? no, la vedo anch'io quella cosa l'ha incastrata guarda guarda Iris ho fatto la magia lol così a cazzo vuoi a prenderla? ci piace giocare a cazzo e spoccare le cose aspetta aspetta faccio il mago faccio una cassa qui ma si può? non si prende quella roba ma c'è sicura che qualcosa? qualcuno fa un'altra forse la posso fare sembra la vedo anche tu questa qua? sì, quella cosa lì ah no, solo una cassa posso fare qualcuno fa un'altra cassa qui sì, stiamo cercando di prendere un coso ebbè nel frattempo io prendo gli altri cosi qua ma non si prende quel coso Iris non si prende non so perché ma che cosa? c'è la cosa lì qua la vedi qua? dove abbiamo lanciato le frecce noi? qua? eh, vedi lì là eh sì, mi senti sì ah, ma basta cambiare personaggio e spaccare tutto eh, ma c'è da qua sono un po' un cazzo no, spaccare tutto che cosa, scusa? eh, c'è il coso l'hai risso? vabbè, vabbè oggi l'ho fatto io prima non aveva fatto un cazzo eh, ci voleva qua sopra c'è roba ecco, ora sono bloccata eh, Iris ci liberi Iris ci liberi ok mi serve un'altra un'altra cosa qui là sopra c'è una roba sì, ma vai dove devi andare? dove devi andare? cosa là? no Iris sali in quella sinistra vai ecco, vai lì brevi domani c'è niente non è vero? aspetta che l'ho vicino ma sopra c'è qualcos'altro forse non mi ricordo aspetta che l'ho vicino no, è di qua ma dove? ah, di qua? c'è qualcos'altro sopra lì? no? no, sopra lì le palle mi fate trasportare figlie ho capito devo farlo io lol c'è quella roba? raccattate queste cose no come fa roba? guarda che abrivi no, ha missato una palla oh, ok ma com'è bello missare le palle allora non c'è più niente? dobbiamo far crashare questa piantina dove? ecco, quindi tu fai così la vedete là? dove? dove devo andare? ok, prendo sì, sopra ce n'è una ma l'ho presa ma tanto cresce la piazza mi sta caprando apri menu, abilità assegni, punti, abilità non c'ho ancora niente guarda che pello ce n'è un'altra anche lì eh prigione, mostri levitazione, mostri io non le ricordo queste cose precedente l'abilità ce l'avete punti per fare una comunque io ho potenziato il mago scudo, gelo spada, fuoco lancio, marco carica ma lì ci sono bolle dove? 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 sopra poi la madonna mi stai salendo qualcuno sai è impossibile ah ok ok ok, adesso vai a sinistra sinistra giù, poco poco giù poco poco giù sì, ecco ok tre e due sì no mi ha mollato qui a morire male va bene io giù mi ha preso un'altra eh di roba che c'era perché metto ponte per uno spaccartare questo giù Christius che c'è qua? ah devi spaccare tutto devi spaccare tutto ti dico col mattello provate con il mattello con la triangolo triangolo cambia con triangolo ah non mi ricordo ma perché non ti spiega più niente in questo gioco? perché siamo prontari guarda come riesce a prendere quella caccia di palla ma che sono stronzetti? ma che sono stronzetti? oh ma c'è tutto dietro cambiamo personaggi vieni qua stronzetto guarda io che sono con la laglia io sono qua in culone che amico la gente così nooo io sto facendo una secchina check it back sniper power io non sto facendo il pif però tanto vai Greta perché mi sono attenzione dietro ok mi sono nella mischia cosa è di bello guarda che c'è un altro che sta carino guarda ma non ho fatto anche le frecce però si ma devi andare da lontano altrimenti ti salano a posto sopra non c'era niente mi senti no guarda qua oh dobbiamo far sapere qualcosa dobbiamo mettere una cassa si sa che devo metterci qua per la cassa qua non c'è niente no ouch non si rende niente no aspetta devo fare così ok poi devo fare un'altra cassa no no basta che sa che abilità uh qua bisogna fare le casse un attimo prese lol no ma si può bloccare anche quello qui no che me ne mancavo ora no figlie 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 aspetta c'è un coso là c'è qualcosa là vedo qualcosa di me vado appunto per eliminare il gen in culonia dove c'è la cassa dove c'è la cassa mi affido a voi starò qua allora fate un'altra cassa qui si a destra ecco vai sali un po' qui ecco vai la prende questo dove eh a giuro c'è un cuoricino all'altro lato aspetta dove sali sto per morire ok viva lol ok qua giù che cos'è inizia è? no dovevo solo toccare con il fucine quello col fucine certo è una rossa aspettate mi fa così e poi via aia ciao attenzione qua qua sopra qua sopra qua sopra no 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 qualcosa di buono no 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 madonna che zia ma cos'è questa cosa? ecco hai visto si doveva spaccare e ce n'era una indietro oh 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 figlie figlie c'è una roba qua in cima oh oh figlie figlie c'è una roba qua in cima sì Che bel draghetto, simpatico, come un oro, ok. Giù ho preso della roba, ho spaccato Cosmo, ma ci sono delle casse, ho spaccato cose, è benissimo. Ricordiamoci che ci stiamo giocando adesso, come la first time, loro da scelta che si giocano, quindi ricordiamolo, quindi non sappiamo tutta la roba i segreti. Bastardo infame, muori! Loro gli ha dato un colcio, che figata! Caccio volante! Nooo, dannazione alla pietra che mi ha bloccato la strama! Vai, tu sali insieme. Sali nella mia cassa! Ma dai... Ma niente non c'è altro. Non c'è altro. Un pezzo di una scimmia! Eee, va bene. No, no! Ciao! Sopra di là non c'è niente, a sinistra? Un cuorecino! Un cuorecino! c'è qualcosa anche qua in cima, guardate come lo piglio, guardate quando mi arriva anche io guarda come muoro, ah ah dai che ti pare il culo se non muoio mi avete lasciata che mira di merda che mira di merda ok, culate vabbè ma non orto il cazzo, vatevi sotto cazzo di merda vieni qua, troncetto ma Iris è moruta no? no no, solo qua ci ha impiegato di 17 anni siete sicuri che di là non c'era più niente? vieni qua, vieni qua vieni qua vieni qua, vieni qua non mi riesce a prendere devo spaccarlo vediamo se si può fare con questo no tu spacca io passo no, no va bene aspetta attenzione arregato allora facciamo una cassa così ecco facciamo quelli vuoltre io davanti una cassa sta cretina di una pianta che è sciuta qua no, non posso uccidere no, perché l'hai fatto? no, scusa non è andata avanti non è andata avanti avete preso la roba sopra? no no no, c'è sta roba da prendere dobbiamo spaccare eeeh fai un'altra cassa allora aspetta faccio una cassa io se riesco a cambiare pg ecco no è vero io ho fatto quella cassa non posso farne un'altra aspettate metto questa cosa qua ecco facciamo così dov'è? ma chi la sta muovendo? io? chi è la ladra lì? sarò io vai ecco procedi vai uuuuh molto giuda molto giuda lol ehm aspetta un'idea un'idea geniale sentiamo hai visto? lol grande e quindi quella è la strada dove dobbiamo andare? oppure no? fatemi saltare no ma dobbiamo spingere qualcosa giù mi sa eeeh lol e si è la strada allora aspetta andiamo giù e vediamo cosa c'è giù allora di qua ho spaccato io adesso devo spaccare ancora ehm mi sa che c'è la giada la giada c'è la strada fuori giù e quindi? e quindi cazzo non lo so vedete se c'è qualcosa giù? su giù c'è una leva ah ok allora bisogna prima di andare non so cosa potenziare io che cos'è? travestimento furtivo movimento furtivo cazzo la fa culo di cazzo usa leva campo a bassa gravità ma io sti poteri non li ricordo mica guardate il genio tac vi ho usato la leva vi ho tirato giù l'ascensorino non si può più niente quindi la prova giusta un attimo che ho potenziato dove è che sono? mai sono morta che state potenziando? si aspetta e ti faccio riduciare ecco non mi reanimi eeeh non so cosa ha allora freccia gelo frecce gelate l'ho comprata anch'io freccia gelo guarda allora quest'altra invece è un movimento furtivo guarda che figa cosa gelo c'ha potenzi pure io allora io faccio quella del fuoco dai allora 12 12 di exp 12 di exp esperienza 12 50 punti abilità non ne ho più io manco io lancio martello esplosione martello ah ma qui non abbiamo il mana avete visto? possiamo fare il cavolo che ci fare quando vogliamo che figata che figata è una cosa giusta nel primo non c'era il mana tipo la cosa blu da caricare si poi si caricava e qui non c'è come punti abilità insufficienti spada a fuoco costo due spudo magnifico i punti abilità sono a sinistra giù ah ok 1 pensavo io guardavo dove c'è esperienza 12 di 50 per aumentare il livello attenzione vado 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 pezzo di merda su crepa male è stato praticamente questa guarda come rende guarda come mi riesce saltare guarda il panzone come salta io non ho parole basta guardatemi come sono paigo proprio non c'è niente è meglio il panzone abbiamo un problema dobbiamo togliere la cosa da lì ecco attenzione perché appena mollo cade quindi 1 2 3 via guarda come scivola guarda come scivola guarda come scivola guarda ma dove cazzo sono cosa cazzo sono io livello auguro che c'è un altro coso ah no in rebozato una allora io genна mi growe in gran 감사atura g non può essere sign där ma perché insomma visto vicino i video dove le vedi vado guarda come guarda come nato attra c'è il tesoro qui in alto a destra dove dobbiamo salire con la bolla e poi in alto c'è un'altra roba l'ho vista ma la bolla di suga sta lì in cima a mia cosa Iris vai perché non sale vai vai qua anche di là dove ah ma c'è valentina questo non è un tesoro aspetta un attimo che prima faccio ho trovato una possibili che le siano c'è una bolla ce ne sono due ancora più su non puoi allora aspetta che faccio salire te esatto prendi la mia cassa solo che non vedo giù più di così non riesco a fare vai in alto vai in alto vai in alto no 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 vi è qua ti faccio prendere le bolle c'è foto qua si condivina la bolla ok non c'è più un che è addio guarda guarda va bene e lei finì la cassa guarda che ti faccio l'ascensore comunque qua c'era una c'era una poesia che ho accolto prima tutto bello aspetta ho preso ho preso bisogna far arrivare l'acqua a dove sbrilluccica una cosa aspetta un attimo ho preso non può fare le cose no il mago guarda come fa l'acqua su di me facciamo così ma così non dovrebbe andare scusa dai che si sta maffiando no da questo altro lato dove si brilluccica Greta ah nooo oh perché fai così ciccio pollice verde ci piace ancora di più ecco e daglie dai io stavo maffiando il mazzo che in realtà è una chioccia non c'è altro su vero no no credo ma che carino serpente che ce lo metterà in culo mi sa che è il boss quello questa sensazione attenzione attenzione ho questa sensazione nel mio corazzone vai a lanciare le frecce a tua madre ma c'è un'altra foglia è là sopra oh tu fai volare me o io faccio volare te aspetta dai faccio volare te guarda come vola guarda come creta ah ah ecco presa si non c'è nient'altro bello che io tiro sulla testa come se fossi veramente lì dentro benissimo scusala no io sto prendendo queste coste allora sotto c'è ho preso todo sotto c'è niente più c'era il mondo ma cuno te lì la leva di merda eh prima dobbiamo prendere le bocce con le bolle grazie alle bolle dobbiamo prendere le altre bolle qua cosa è questa classica ma che porco basta sopprimiamo greta già sono lente queste cose poi le spara così in due non ce la fa siamo troppo pesanti ad alzare il ponte però non tiene perché quindi dovete mettere forse la cassa qualcosa che regga non si faceva per la cassa in cima oppure ci si ma te dicevi di essere impegnata metti la cassa lì sotto greta sotto il ponte dove la mette fammi volare greta greta fammi volare sto volando jack passoso ma no mi prende cassa in faccia lei vai di qua no vai su vai su vai di qua si spendi quella lì intanto vai ma non c'era una roba su prima si eccola ce ne sono altre aia e niente vado all'altro lato allora fammi andare all'altro lato vediamo se mi faccio volare io tieni la cassa molla la cassa ok io venite vai puoi volare puoi volare puoi volare puoi volare no tac puoi volare una brutta sensation saturation ora vi ammaggio guarda guarda ora hai mai quanti ammazzata attico che voglio la bolla hai abbatardo che non si congela ma perché sono ormai vuoi leggere le bonzelle prendete quella bolla lì sopra allora fammi la prendere la metà non c'è altro nuovo livello oh bisogna rompere qua perchè Iris non lo fa mai arriva la camoà l'ho fatto adesso lo fate ah gliel'ho fatto oh a bella o a bella ah ah qualcuno mi sta entizzando ho lanciato un martorio attenzione sono morta sappiatelo io più nel passaggio piante rosse attenzione sulle piante c'è una dietro ho scelto la mia facile io come faccio a prendere quella lì con la bolla e mezzo beh al massimo mi sacrifico per la patria esatto qui c'è la prendi la iris prendi la iris si ma era nato il sienzo a pezzo del merda muori ma ti stai fermo no e sta livellando a bestia nel frattempo che voi lo so ammazzate io cerco di vediamo cosa è inclusiva però tre le di cassa faccia salzare da qua ecco fammi volare fammi librare nel cielo librare si ma c'è librare 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 allora attenzione prima facciamo una roba qui ho parlato il culo tirate su tirate su ti lo si vede sono viva sono viva attenzione ready in action in action attenzione tutti no ok c'è qualcosa qua in cima qua c'è qualcosa è un attimo perché devo scoprire la palla guarda la cazzo di piano ma anche qua a me scusate l'ultimo polpone di 3 niente non sono capace basta nel tiro il tiro tutto bastardo muori grazie ha fatto un piacere buttiamo questa cassa perché non lo so perché qua sta cassa perché aria prima di andare alla paventiera in cima guarda che c'è il coso che aspira la cosa la cassa no è troppo pesante però se la metti la guarda che va guarda 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 questo si devi devi sistemarlo guarda vedi questo cosa qui di fare qui o mio dio levo la cassa scusate ma non c'è qualche trofeo di stare tot minuti in a vera faccia proviamo non lo so a con io provo e certo perché quella cosa deve venire qua dopo che io sono tre ore vattene nel frattempo potresti anche controllare se c'è il trofeo non lo so io magari siamo qua tre ore esatto controlla un attimo che se no ci sono trofea forse sai no aspetta ha il potere di fare quella cosa lì il ponte di legno che c'era il ponte di legno fammi vedere un attimo che guardo che c'è punti perché mi pare dovresti fare tipo surf con la tavola ma si chiama tavola no si non ce li ho mi mancano i soldi c'ho uno costa due chi è che ha due punti io ne ho uno pure e vabbè la stucchiamo c'è una bolla gigantesca gigantesca gigante che mi fa volare come se non ci possono domani vuoi volare che non mi sono incastrata forse via attenzione ho detto a diaz ok qualcuno salga sulla mia cosa quanto manca ancora l'acqua di questo livello non lo so facciamo così vieni qua greta cosa ci fai volare da qua non ci riesco la fa ne un'altra patorecine una vuol dire che bella grossa è tutta per te ok aspetta 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 eh grazie ma non è niente che trovo che cazzo ne so l'ho presa l'ho presa ah io l'ho presa non ti preoccupare baby ecco è finito il livello forse yeee ma quindi non era un boss il serpente era così era random sono già le 44 ancora non è finito oh no è parlato in fretta non so perché uh sopra ci sono le cose da prendere va bene vediamo se ce la faccio bastardo di un serpente di merda ven dietro ven dietro ven dietro ven dietro faccio resuscitare ven dietro 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 arrivato la madonna si basta che siamo tutte vive c'è una vive almeno ok allora esatto chi va tipo a kamikaze bastardissimo allora una rimane lì e le altre ecco Iris rimane lì per sicurezza adesso ha vita ma allora sei uno stronzo sei poco tuda poco tuda ma c'è qualcosa qui da cosa facciamo ma non gli sto aia Iris Iris ven dietro ok vi do il cambio andate voi per vedere cosa succedere adesso e poi rimango io sì così eviti le figure di merda lo 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 Lio Lio no dobbiamo fargli cascare qualcosa in testa ecco ma madonna se io li stavo sparando tre ore ma ne c'è Oh, chi è questa figata? Maleficent, eccola qui Dacci il trofeo Valle fangosa Riusciamo? No, non riusciamo Salviamo video Quindi devo fare una volta Una volta Aspetta, prima Magari finisci di parlare Tipo, ok, ciao Vabbè, allora poi ci vediamo al prossimo video Arigato Grazie per aver seguito Benissimo Mi sono pure moderata comunque Quindi, attenzione